L'assessore Fortini annuncia che per i centri estivi la regione ha ottenuto 13,5 milioni, mentre i servizi dell'infanzia a 0,6 anni sono 33,5 milioni. Il primo anno erano appena 14 milioni le risorse ottenute fino ad oggi per il comparto e che la campagna ha conquistato 6,5 milioni in più per lo 0,6 che consentiranno di avere maggiore attenzione per le scuole paritarie che sono state gravemente danneggiate dall'emergenza sanitaria e rappresentano una struttura di sostegno importante per le famiglie con i figli piccoli. Intanto è stata approvata la graduatoria per altre 10.000 persone che a partire dal 29 giugno potranno riscuotere alle poste il bonus di 500 euro per l'acquisto di computer e tablet o per pagare i servizi per l'acquodimento dei figli di età inferiore ai 15 anni. A breve anche il pagamento del secondo bonus pensioni.